La seconda edizione del rapporto SDGs dell'Istat presenta un aggiornamento degli indicatori per la misurazione dello sviluppo sostenibile e il monitoraggio dei suoi obiettivi. Gli obiettivi per il 2030, promossi dalla Nazione Unita nell'ambito dell'agenda globale per lo sviluppo sostenibile, rappresentano un programma di azione per i 193 Paesi membri dell'ONU, con lo scopo di ridurre la povertà e le forme di diseguaglianza e garantire una crescita economica duratura e sostenibile. Gli obiettivi per il 2030 si riferiscono a fatti concreti della nostra vita, relativi all'ambito economico, sociale, ambientale e istituzionale. L'Istat e altri soggetti del Sistema Statistico Nazionale svolgono un ruolo cruciale per la produzione dell'informazione, indispensabile al monitoraggio dello stato di avanzamento dell'Italia, degli obiettivi dell'agenda 2030 e della strategia nazionale di sviluppo sostenibile. Ogni sei mesi dal 2016 l'Istat rende disponibili sul sito molti indicatori per l'Italia, sulla piattaforma dedicata agli SDGs. È necessario misurare per agire dalle scelte del presente dipenderà il nostro futuro. Grazie. 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 Grazie.